Per noi, per quanto riguarda la legge elettorale che va fatta subito, bisogna partire dalla maggioranza. In questo momento pare che all'interno della maggioranza che sostiene il governo ci sia un'intesa sulla cosiddetta legge dei sindaci. Quindi non capisco perché su questo, se c'è davvero questa volontà, non si persegue. Poi se ci sta anche Berlusconi, tanto meglio. Non ci abbiamo problemi. Cos'è cambiato col passato? Dovete trattare per le larghe intese con Berlusconi e vi ritrovate a trattare ancora con Berlusconi? Ma questo adesso bisogna chiedere al nuovo gruppo dirigente. Lei non l'aspettava? No, io mi aspetto che ci sia un lavoro comune da parte di tutto il partito per migliorare il lavoro del governo eletta, che non ci sia uno stilicidio quotidiano, ma ci sia sostanzialmente una volontà di stimoli positivi. Credo che da questo punto di vista vada fatto un chiarimento molto netto. Non esiste che ci sia la minoranza del partito che sostanzialmente sostiene il governo e la maggioranza invece abbia un atteggiamento francamente che si capisce poco. Quindi credo che la giornata di oggi sarà molto importante.